non vi ho sentito Presidente vi ho dato solo il benvenuto in video ai festeggiamenti per la promozione del Sorrento parlavamo di passione per il Sorrento di amore per il Sorrento per la nostra terra e naturalmente il tutto ci ricollega immediatamente a Gianluigi Aponte prego io vi ringrazio buonasera a tutti sono fiero quanto a voi che il Sorrento finalmente abbia vinto il campionato e quindi mi voglio complimentare con tutti i giocatori che ovviamente sono stati bravissimi da quanto ho sentito dire e soprattutto ringraziare anche l'allenatore che sicuramente è stato importante in questa vittoria ecco e poi un particolare ringraziamento ovviamente va fatto a tutti i tifosi perché sono sicuro che è grazie anche ai tifosi che i giocatori hanno avuto il coraggio e la determinazione per vincere questo campionato quindi dobbiamo molto ai tifosi e bisogna ringraziarli veramente vivamente e poi vorrei ringraziare anche il presidente della squadra l'avvocato Cappiello e i tre vice presidenti importantissimi Paolo Durante Salvatore Di Leva e Franco Ronzi che hanno collaborato anche un po' dietro alle quinte ma hanno collaborato moltissimo per sopportare la squadra e anche a loro dobbiamo un grande ringraziamento perché senza di loro senza altro forse il risultato non si sarebbe raggiunto e un particolare ringraziamento sicuramente va fatto al sindaco che so che è stato sempre presente a tutte le partite e sicuramente ha influenzato moltissimo i giocatori positivamente e grazie alla sua presenza sicuramente hanno dato il massimo e quindi grazie infinite per il suo interessamento sindaco e poi a fine vorrei ringraziare l'avvocato Milano per quanto ha organizzato oggi in onore dei rossoneri e poi dire a tutti voi che veramente sono molto molto felice di questo risultato e mi auguro che l'anno prossimo ci ci vedremo nuovamente per celebrare un'altra vittoria e quindi che sarebbe presto insomma grazie Presidente quindi grazie Presidente se non c'è altro da parte vostra insomma io vi auguro una buona serata e approfittate di questa bellissima occasione che insomma aspettavamo da tanti anni e che sicuramente fa piacere a tutti e soprattutto fa piacere a tutta la città e quindi vi auguro una bellissima serata grazie Presidente grazie infinito grazie di essere stato con noi sappiamo che a fine mese ci sarà il varo di una nuova nave della MSC la MSC Siviu nel porto di Genova le inviamo un fortissimo applauso e complimenti per questa nuova unità che viene ad arricchire la forta grazie grazie a voi grazie di tutto e buona serata arrivederci grazie arrivederci grazie a tutti grazie a tutti